è arrivata una bella marmora ma purtroppo c'è la sorpresa eccola qui praticamente l'hanno tagliata mentre la tirava un elmo questa marmora qui ci fa capire che abbiamo messo la canna col vivo e l'abbiamo fatto bene vediamo che succede con la canna col vivo serra ci trancia di netto la marmora guardate che taglio preciso non è nemmeno piccola la marmora